Il mare è il seguito del volo e noi due spazi abbiamo fatto un po' di calma, facciamo il cadame, e i luoghi sono molto lunghi rispetto alla giallariata, allora se uno fa un intervento, uno sa che il 2 cm dentro fa un'intervento sia, non ha problemi di poeve, quindi la voce è diventamente molto grande. ... 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